Un giorno benvenuta questa zuppa paliente che sono in una location diciamo antica ma bellissima come Palermo. Allora vediamo quali sono i temi della giornata subito subito per capire che cosa sta succedendo sui giornali e soprattutto quello che succederà diciamo nella politica italiana. La cosa fondamentale di oggi è che tutti quanti i giornali sono preoccupati da una battuta incredibile di Fitch che è un'agenzia di rating la più sfigata delle tre, Moody's standard and poor's in genere vengono considerate più senior ma anche Fitch dice la sua. E adesso che cosa succede? Le agenzie di rating prima mettevano un outlook cioè cosa prevediamo e lo rendevano negativo. Poi dopo davano il voto che seguiva l'outlook. Adesso cosa succede? Loro che cosa ci rompono le balle? Ci danno l'anticipazione della loro view, della loro visione che non è detto che si trasformino in un outlook o in un voto che comunque arriverà a fine ottobre. Insomma è una specie di stilicidio di informazioni che ovviamente vengono prese e tirate da tutti quanti al loro proprio beneficio ed interesse. Quelli che odiano il governo diranno vedete le agenzie di rating e distruggono la credibilità dell'Italia e quindi noi andremo a carte 48, il governo dirà c'è il complotto delle agenzie di rating. Ma la cosa straordinaria che poi a parte invertita avveniva anche l'anno scorso, due anni fa, cinque anni fa. Io quando vedo oggi Brunetta che mi parla dell'agenzia di rating e si preoccupa dello spread, insomma mi ricordo lo stesso Brunetta che ci faceva due palle così sul complotto del 2011. Sono sicuro che Brunetta adesso ci spiegherà che le due cose sono diverse. Ma il punto fondamentale può anche avere ragione il professore Brunetta che ha sfiorato il Nobel per l'economia, ma la gente se tu gli vai a spiegare a 60 milioni italiani che lo spread è una cosa manovrata dai cattivoni della spectre e poi dopo 4-5 anni è difficile spiegare alle stesse persone che non hanno rischiato di prendere il Nobel che invece lo spread in questo caso è cosa buona giusta. Ci arriva forse un comunicatore della terza elementare a questo ragionamento e quello io penso che oggi gli italiani sappiano, non capiscono bene se ieri lo spread era una manovra perché oggi non dovrebbe essere altrettanto. Ma andiamo alle cose serie. Il Sole 24 Ore di oggi è una cosa seria perché in realtà intervista a pagina 2 dell'apertura del Sole 24 Ore uno di questi famosi gestori dei fondi comuni di investimento. Insomma questo gestisce 1700 miliardi, il debito pubblico italiano è di 2006, circa il 50% del debito italiano del prodotto italiano è gestito soltanto da una persona, ovviamente globalmente, soltanto in titoli di Stato investe 400 miliardi. Questo signore che cosa dice oggi al Sole 24 Ore? Dice una cosa molto semplice e cioè che il suo fondo, che è quello di JP Morgan, continuerà a investire, anzi ha comprato BTP negli ultimi anni e negli ultimi mesi e negli ultimi giorni perché sostiene che questa manovra non è una manovra dirompente, che l'Italia ha una grande comunque export che è superiore all'import, una bilancia commerciale positiva e che l'avanzo primario, cioè la differenza tra spese e entrate senza colsare gli interessi è buona. Quindi questo signore sta investendo i soldi dei suoi risparmiatori sul BTP italiano. E beh, in realtà è forse una scommessa, bisogna vedere quanto investe, ma quando io vado a vedere quello che oggi Sole 24 Ore mi racconta molto bene e cioè l'asta dei bot ieri, cioè lo Stato ieri ha venduto i titoli di Stato a un anno, cosa è successo all'asta dei bot di ieri? Mi sono preso appunti perché non voglio fare errori ed è la seguente. Ieri abbiamo venduto 6 miliardi e mezzo di bot, una bella cifra, e i tassi di interesse dei bot a un anno sono saliti allo 0,9%, soltanto un mese fa rendevano lo 0,5%, soltanto sei mesi fa erano negativi i tassi di interesse, il che vuol dire che rispetto a un mese fa lo Stato spenderà 30 milioni di euro in più per interessi nei confronti dei bot. Quindi se questo fondo di JP Morgan si è comprato i bot italiani ieri, ha preso 4 tic 4,04% in più rispetto a soltanto un mese fa. Loro hanno fatto un affare, se l'Italia non dovesse fallire l'affare lo portano a casa, loro pensano che l'Italia non fallisca e quindi ci guadagnano. Non so se vi è chiaro a tutti quanti, ma il punto fondamentale resta che lo Stato italiano per pagare di più i bot deve prendere più soldi dalle nostre tasche. Invece di prendere più soldi dalle nostre tasche spende come se non ci fosse un domani, perché questa manovra oggi è del tutto chiaro, lo spiega bene Perotti oggi su Repubblica, leggetevolo con attenzione il professore Perotti, è fatta di aumenti di, sostanzialmente lo dicono un po' tutti quanti, di sussidi e pochissime riduzioni fiscali. Tra l'altro, dice Perotti, voi dovete finanziare almeno 20 miliardi di questa manovra e non raccontateci le balle, dice Perotti, che potete tagliare le agevolazioni fiscali come se fosse una cosa che è facilissima. Ci ho provato io quando ero consulente di Palazzo Chigi, ci sono riuscito per 1,5-2 miliardi a segnare le agevolazioni che potevano essere tagliate, più di quello non ce la si fa e anche quello, dice, i politici non ci permettono di farli perché vanno a intaccare interessi molto specifici. Questo scrive Perotti che questo mestiere lo ha fatto per Palazzo Chigi. Tra l'altro dicendo, sfottendo nelle ultime righe Perotti è straordinario, dicendo tanto poi questo governo non ha problemi perché mette un numeretto nel modello econometrico del tesoro, dice che l'anno prossimo cresciamo al 3% e quindi può spendere quanto gli pare, poi l'anno prossimo faremo i conti. Ecco, quando faremo i conti poi i tassi di interesse saranno molto saliti, forse noi non saremo falliti ma lo Stato dovrà spendere sempre di più per pagare il suo mutuo. Nel frattempo il governo, come ricorda il messaggero, incontra le aziende e cosa dice le aziende? Fate voi quello che non facciamo noi. Perché questa è un'altra puttanata, cioè ci hanno spiegato che puntano sugli investimenti, quanto hanno messo nella finanziaria degli investimenti? Due miliardi. Quanto hanno messo per le pensioni? Otto miliardi. Quanto hanno messo per la cittadinanza? Dieci miliardi. Quanto hanno messo per la flat tax, che non esiste? Un miliardo e mezzo. Quindi sostanzialmente gli investimenti è zero e ieri si è capito che vogliono far fare gli investimenti a chi? Alle partecipazioni statali. Cioè secondo loro Enel, Eni eccetera devono investire quello che lo Stato non investe. Ma essendo loro i controllori dicono fatelo e Palermo, l'amministratore delegato nominato da questo governo della Cassa Depositi e Prestiti ha detto subito sì 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 investiamo e ha detto subito sì 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 adesso mandiamo con la vostra legge gente in pensione e ne assumiamo di nuova. Altra balla clamorosa. Perché un'azienda deve mandare via un sessantenne e deve prendere un ventenne perché il ventenne gli serve per un mestiere nuovo, per una competenza nuova. Ma questo è quello che avviene nelle aziende tradizionali. Forse non dobbiamo pensare che nel futuro l'occupazione verrà fatta da aziende che oggi ancora non ci sono. No avremo mille postini in più perché ne abbiamo mandati mille in zero. Poi straordinario oggi l'artificio. Ecco Luca che dice negatività go go. Questo è un genio Luca. Negatività go go. Ti ho appena detto ma la testa. La testa. Riesci a togliere il chip del Movimento 5 Stelle Luca dalla tua testa? Che cazzo ho detto sull'investitore JP Morgan che compra i titoli di Stato? Cosa ho detto? Ma ci arrivi? Riesci a capire quello che ha detto? O tu vuoi soltanto che dica? Ecco quello che vogliono questi qua. Bello questo governo. Bravo Toneinelli. Bravo Di Maio. Quando arriva Salvini. Complimenti. Questo volete? Questo volete? Allora sapete che fate? Toglietevi dei coglioni. Non guardate questa zuppa. Qua non è negatività. Cerchiamo di leggere la realtà con i grigi che non sono né bianchi né neri. Va bene? Chiaro? Quando io leggo oggi Travaglio che mi fa la prima colonna dicendo che eh ma Toneinelli è un gafferri. Cosa? Avrebbe ucciso la Gelmini. Ha ucciso gli altri per queste gaffe. E alla fine dice ma Toneinelli sì che è un bravo ministro. Cioè fa le gaffe ma è un bravo ministro. Poi leggo invece Cerasa sul foglio che mi spiega che 54 chilometri di terzo valico cioè la ferrovia che dovrebbe portare le merci da Genova a Rotterdam passando per Milano passando da un'ora e mezza tra Genova e Milano a 30 minuti già finanziato già fatto al 70% ha perso 790 milioni di euro di finanziamento nell'ultimo decreto Genova. Beh io sto con Cerasa. Io penso che aver tolto soldi per il terzo valico è una follia che pagheranno i nostri nipoti e che Toneinelli è un pessimo ministro. Che questo è un governo pessimo se pensa di ridurre gli investimenti per fare fondamentale fondamentale è l'infrastruttura che da i Liguri che hanno un po' di testa. Chiaro? Questo è il che servono. Oh no. Paga bene Silvio e Porro. No paghi tu. Cretino. L'ultimo cretino è Giorgio Paglieri. Questo cretino che mi sta ascoltando e che mi dice paga bene Silvio che comunque paga benissimo non ha capito che mi sta pagando lui. Questo deficiente mi guarda, mi commenta, mi critica e mentre fa questo mi sta mettendo una view alla mia pagina Zuppa di Porro. I cretini secondo me hanno tutto il chip nel cervello. Cretini anche secondo me questi della destra diciamo giovanile che hanno come loro mito il Che Guevara. Oggi Mascheroni li sgama sul giornale perché hanno messo il Che Guevara come loro mito. Allora se uno di destra ha come mito il Che Guevara è esattamente come questo qua che mi ha detto ti paga bene Berlusconi. Li metto insieme. Cioè quello di destra che sta col Che Guevara è quello che mi dice qua guardando la zuppa ti paga bene Berlusconi. Li metto insieme. Li mettiamo in una stanza e li facciamo parlare. Che Guevara, l'amante di Che Guevara di destra è quello che mi dice che bene Berlusconi. Mettiamoli in una bella stanza. State insieme! State insieme! Dovete annullarvi. E poi una bella bomba, sapete quelle che non distruggono i mobili? Quella le mettiamo là. Distruggono i cervelli, anzi non c'è bisogno di distruggere i cervelli. Cioè uno di destra che ama Che Guevara c'è al cervello già. Cioè si è fatto MDA negli ultimi 500 anni. Calabresi ringrazia i suoi, dice grazie miei che mi hanno visto su internet, che continua a coprire il giornale contro la dittatura e il fascismo di questo governo. Ricordatevi che noi siamo l'unico giornale che dice la verità. Contento lui, contenti tutti. La Parodi, ieri avevo in un'intervista la Parodi, quella che conduce un programma a Rai 2, dice mi fa paura questo tipo di politica basata sulle divisioni. Penso che il successo di Salvini nasca dalla arrabbiatura della gente, dall'ignoranza della gente. Insomma la Parodi ha detto le solite cazzate che dicono a sinistra. Cioè quelli che noi abbiamo insomma in grande simpatia. Quelli che dicono le solite cose che si devono dire nei salotti mangiandosi queste minchiate dei, come si chiamano i finger food. Ha fatto molto successo. Ecco, lo dice il radio. Ma il punto fondamentale, cari amici leghisti che ve la siete presi con la Parodi, non riesco a capire come vi venga in mente di far fuori una conduttrice per le cazzate che dice. Non c'è problema, lasciatelo fare. Saranno gli ascoltatori a giudicarla, saranno i direttori a farlo. Cioè un politico che si mette a contestare, a dire che deve lasciare la RAI per quelle cose che ha detto, è un politico scemo. Scusate, scemo. Perché se noi iniziamo a ragionare così, che dobbiamo far fuori quelli che hanno idee politiche diverse dalle nostre, mi sembra che siamo messi, diciamo, non in un regime, perché a me del regime non me ne fotte nulla, ma siete come Renzi. Siete come Renzi che ha fatto fuori virus. Questo volete essere virus e tanti altri sono stati fatti fuori perché non piaceva Renzi. Voi fate fuori la Parodi perché non vi piace quello che dice. Semmai dice delle banalità, quello che penso io. Ma, far fuori una giornalista per un motivo di questo tipo mi sembra una roba da pazzi. Questo è il mio telefono nuovo, io adoro questo telefonino qua perché mi piace fare, vedete, questa specie di flip-flop che tu fai così. Adesso chiamo quello che mi ha detto che sono pagato. Sì, Silvio, grazie. Passami 100.000 euro, esatto, per la zuppa di oggi. Grazie. Scusate, ero pagato da Silvio. Però ti ve l'ho detto. Calabresi che ringrazia, Travaglio, il fenomeno che oggi ci accusa. Ah, ecco, ultima cosa, il PM di Avellino chiede dieci anni di galera per Castellucci. Perché dovete sapere che queste autostrade, non solo a Genova, chissà perché, ma anche, purtroppo c'è poco da ridere, ad Avellino, 40 persone per un autobus che era sceso da Cavalcaria e era morto. È un'accusa, è una richiesta, vedremo come finirà, ma insomma, diciamo che è un'altra tegola seria nei confronti di un'azienda che mi sembra del tutto incapace di comunicare e anche forse di gestire la rete autostradale che ha. Questo lo diranno i magistrati. Direi che per oggi è tutto, vado che guardate che lusso, hai ragione, bannerità, una che offende gli elettori. Ma Carolina, capisco che offende gli elettori, lo so, hai ragione, ma io posso anche offendere un cretino che mi sta qua, ma non è che succede nulla. Se uno mi dice che sei pagato da Silvio Berlusconi gli dico che è un cretino. Se a lei gli stanno sulle balle i leghisti dice che sono ignoranti. Non sarà né la prima né l'ultima volta. Secondo me è una banalità, secondo me è una banalità e non è giusto far fuori per questi motivi. Io sono stato fatto fuori, so che cosa vuol dire, ma non è che mi piegnucolo, non è fotte nulla, sto molto meglio ora che prima. Ma il punto vero, ragazzi, attenzione, perché se i politici fanno fuori i giornalisti per le loro idee, allora veramente il pensiero unico, cioè di quei cretini che devono avere solo e comunque il pensiero unico, che poi alla fine è sempre quello di chi comanda. Ragazzi, io vado che c'è da fare qui a Palermo e poi questa sera, se ci riesco, ha offeso chi la stipendia. No, non è stipendiato dal partito. Scusate, la Parodi non è stipendiata dalla Lega, chiaro? Non è stipendiata dalla Lega. È stipendiata dagli italiani, semmai. E stipendiata dagli italiani che non sono al 100% d'accordo con quello che pensiamo io e voi. Non sono tutti d'accordo con noi, va bene? E pensare che qualcuno si possa arrogare il diritto di far fuori la Parodi in nome degli italiani è, scusatemi, una cosa che non è corretta. Bene? Va bene? Va bene, ragazzi, dai, su. Allora Travaglio che offende chiunque non sia 5 Stelle. Bravo, esatto. Ciao ragazzi, però Travaglio comunque non è pagato dai contribuenti, questo bisogna dirlo. Ciao!